Pur essendo l'opposizione in Consiglio Comunale, dobbiamo essere onesti e dire che ci sembra che l'amministrazione comunale su questa vicenda stia facendo i passi dovuti. Quello che oggi quindi avviene è l'emissione di questa ordinanza di ripristino e di sistemazione per una situazione che probabilmente tanti sapevano ma che non si era mai palesemente evidenziata e voglio dire questo, stiamo parlando, se questo verrà accertato, di un deposito di moquette. Voglio ricordare che la moquette non è un rifutto tossico, è speciale ma non è tossico ed esistono due modi per risolvere quella situazione, o asportarla o stabilizzarla bloccandola e coprendola con la terra rossa che notorialmente non lascia passare l'acqua. Certo, la situazione più importante però a nostro giudizio lì è la situazione idrogeologica. La situazione idrogeologica è una situazione che va affrontata ma è anche la situazione che richiede una corrisponsione di investimento, di denaro molto più importante. Ciò non toglie che quello che oggi c'è, ossia l'abbandono completo, la devastazione completa di quel posto, debba essere fatto carico la proprietà del suo ripristino. Una piccola cosa, una piccola precisazione però la vorrei fare, nel 1972 sottoscritto aveva quattro anni quindi credo che non possa essere addebitato a sottoscritto la responsabilità di un'eventuale discarica abusiva di materiale. La seconda cosa la dico e l'ho detta anche, chiaramente l'amministrazione l'abbiamo detto, attenzione a ordinare l'abbattimento dei pali delle strutture di trasporto, quindi della seggiovia, perché quella è area tutelata e in un'area tutelata la revisione, l'ammodernamento di una struttura di trasporto esistente lo si può fare, togliere una struttura esistente e successivamente nei prossimi anni richiedere di rifarla non si può più fare, quindi attenzione va bene la pulizia, va bene il ripristino, va bene togliere i cavi, ma attenzione a non togliere i pali, altrimenti in quella zona significherebbe non poter più rifare gli impianti di risalita e per inciso una scelta così forte non andava comunicata attraverso un'ordinanza, andava chiesta alla popolazione, andava chiesto alla popolazione cosa ne pensava e quale idea la popolazione ha del futuro di quell'area, io credo invece che in nostra amministrazione abbia già deciso che lì di impianti non se ne debbano più fare e credo che questo non sia una scelta di un'amministrazione lungimirante, quantomeno di un'amministrazione che è sempre dichiarato di volersi confrontare con i cittadini, doveva confrontarsi.